Grazie ad Albertina per queste parole così lusinghiere e grazie a chi ha voluto cominciare questo ciclo di incontri proprio con il mio libro. Ne sono particolarmente felice perché camminare per boschi mi piace molto e spero che potremo tornare a farlo davvero presto in presenza, sotto gli alberi e per sentieri. Saluto di cuore tutti, specialmente le persone care che si sono collegate da lontano perché mai come ora, davvero mai come in questo periodo, le persone hanno importanza. E a questo proposito volevo cominciare dicendovi che anche questo mio lavoro su Maria Cervi è stato prima di tutto un'esperienza umana. E dico esperienza non a caso perché da Maria, dalla sua avventura di crescere che ho cercato di esplorare e di ricostruire, ho imparato davvero tanto. E di questo tempo che ho passato con lei, che Albertina dice giustamente è stato molto lungo, ma per me è passato in un attimo, di questo tempo io ho ancora molta nostalgia, proprio molta nostalgia. tanto che qui insomma nel mio studio, nel posto in cui scrivo, conservo un piccolo pantheon di immagini di persone che mi fanno da sprone, da esempio, che mi tengono sulla strada buona. E una delle immagini più cari che io conservo è proprio questa, spero che riusciate a vederla. Ecco, questa è una bellissima foto di Maria che parla e insieme sorride. È una foto che mi hanno regalato le sue figlie, Anna e Silvia. Ed è dentro a questa massiccia cornice di legno che è stata fatta con le mani da Giovanni Bigi, il marito di Maria. E gli è venuta un po' sghemba, è un po' storta, però è solida, è solida come lei, è solida come loro, è come i cervi Bigi. E infatti questo libro è dedicato a loro, è dedicato soprattutto a loro, alla famiglia stretta di Maria che mi ha accolto come se fossi una di casa e senza la quale, devo dire, non avrei potuto muovere un passo. Ed è dedicato anche a tutti i bambini dei cervi, ma anche dei morotto e dei barilli, cioè i bambini dei fratelli, ma anche delle sorelle cervi. E questa era già una delimitazione di campo. Questo lavoro è nato da un incarico, da molti dialoghi fra me, l'Istituto Cervi e la famiglia di Maria, ma è nato soprattutto da un interrogativo personale, che risale a quando ho incontrato Maria per la prima volta, molti anni fa. E naturalmente incontrare lei mi aveva debitamente impressionato, perché aveva a ragione il suo sindaco, il sindaco di Gattatico, il sindaco Pisi, con il quale Maria ha lavorato a lungo appunto in comune, che mi parlava del suo nome magico. E' vero, il nome Maria Cervi apriva molte porte, ma le apriva molte porte anche nei cuori. Quindi il primo impatto era questo, no? Di una specie di reverenza nei confronti del monumento Maria, cioè Maria era anche una presenza che fisicamente si imponeva. Ma subito dopo è nata davvero anche una curiosità personale, perché Maria era una persona molto interessante, no? Non solo era una presenza equilibrata, unitiva, ragionevole, molto autorevole, ma era anche dotata di una intelligenza politica che saltava agli occhi. Insomma, io ho sentito con le mie orecchie diversi uomini della sua generazione, anche più anziani, dirigenti di partito e non solo del suo, e amministratori pubblici, riconoscere a Maria questa finezza di giudizio, questa capacità, questa grande capacità di discernimento in campo politico, il che non è affatto scontato, non è affatto scontato. Del resto, Maria, questo l'ho scoperto facendo appunto questo lavoro su di lei, poteva vantare una preparazione eccellente, no? All'epoca in cui la formazione che i partiti garantivano era una cosa molto seria, no? Un'epoca della quale non si può che avere nostalgia, direi, in questo momento. Ecco, più di tutto però Maria mi era sembrata una persona di grande buona volontà, e dallo spessore umano che tracimava e si avvertiva anche nelle circostanze meno favorevoli. Maria emanava calore, un calore che era in grado di domare anche le scolaresche più scalmanate. Lei aveva proprio questo tocco, questo tocco. Bene, dicevamo del suo nome magico, il nome dei cerni. Chiunque abbia accostato la storia dei fratelli Cervi, soprattutto se non è più giovanissimo, di sicuro è passato attraverso il libro di Alcide e di Renato Nicolai, I miei sette figli, che è uscito nel 1955. Un libro perfetto, veramente un libro perfetto che cattura, che ancora oggi fa vibrare delle corde molto profonde, fa sorridere, fa sorridere ai motti contadini di Alcide, fa piangere nei passaggi in cui si deve piangere, si piange ancora oggi. Un capolavoro, un capolavoro anche di propaganda. Adesso lo possiamo dire serenamente, nel senso che questo libro è stato oggetto di ricerche storiche molto minuziose, insomma, quindi ne conosciamo anche la Genesi, quindi un capolavoro anche di propaganda. Grazie appunto alla diffusione militante, solo in Italia ne erano state vendute un milione di copie ed era stato tradotto negli anni in cui è uscito in quattordici lingue. Ecco, oggi noi appunto siamo in grado di ricostruire molto serenamente che dietro c'era un'impresa orchestrata con grande intelligenza dal partito comunista che aveva all'epoca bisogno di un mito su cui fondare sia la Repubblica appena nata che anche la politica togliettiana del partito nuovo e la storia dei Cervi si prestava alla perfezione a questo scopo. Una operazione così efficace, quella messa in campo da questo libro, è vero che nell'immaginario collettivo la cascina dei Campi Rossi e i suoi abitanti si sono come immobilizzati da allora nel presente eterno della leggenda. Luigi, Luigi Cervi, il fratello di mezzo, fratello minore, fratello di mezzo di Maria, mi ha raccontato che negli anni 60 e 70, quando lui che era stato uno di quei bambini, aveva già 35 anni, riceveva questi visitatori che venivano con le caramelle per i bambini, cercavano ancora quei bambini. E ecco, in questo libro perfetto, l'epopea dei Cervi è tutta al maschile. E tutta al maschile è la storia della vecchia quercia e dei suoi sette rami. Anche se quei rami erano nove, erano nove perché c'erano anche due figlie, no? Rina e Diomira, che nel libro quasi non compaiono, no? È stato fatto uno studio accurato anche su questo, compaiono pochissimo. E di queste due ragazze sono in molti a ignorare persino l'esistenza. Lo dicevo perché alle donne dei Cervi e al loro ruolo fondativo nell'impegno civile della famiglia si arriva solo dopo molti decenni dalla tragedia che li aveva sconvolti. e dal resto, cioè, noi abbiamo ormai uno sguardo prospettico sulla storiografia della resistenza e sappiamo che il ruolo delle donne che hanno combattuto, di quelle che hanno combattuto con le armi, è stato riconosciuto molto tardi. Figuriamoci il ruolo delle altre, cioè di quelle che hanno combattuto con delle armi diverse, insomma. Eppure senza le donne che fra il luglio e il novembre del 43 hanno accolto, sfamato, rivestito, nascosto, curato almeno un centinaio di persone, il sogno, il miraggio resistenziale degli uomini non avrebbe tenuto più di qualche giorno. Loro erano vitali, erano vitali perché questo obiettivo antifascista degli uomini potesse essere realizzato e il loro contributo più importante è stato nel fare sì che la casa, l'organizzazione domestica e della famiglia stesse in piedi, cioè reggesse questa scelta di apertura che gli uomini avevano fatto a tutti quelli che cercavano un rifugio, cercavano un rifugio e cercavano un luogo nel quale cominciare a pensare dei progetti di antifascismo. Ecco, eppure queste donne che hanno avuto un ruolo capitale in tutto questo sono state sempre un po' appiattite sul fondale dei Campierossi, come Genoefa, come Genoefa Cocconi, la quale appunto, lo dice anche Papacervi nel suo libro, la sera leggeva e raccontava ai suoi bambini le storie che si trovano nei libri e alla quale i suoi figli devono di sicuro la curiosità intellettuale e l'amore per le storie che si trovano dentro alle pagine dei libri, che costituisce una delle prerogative più interessanti e più importanti della famiglia Cervi. Ecco, Genoefa però resta per molto tempo un po' sullo sfondo. Lo stesso Piero Calamandrei, che è stato un grande intellettuale, padre della patria, ha dedicato a Genoefa una epigrafe che ci muove ancora oggi a commozione, eppure anche lui la tiene dentro al recinto che imprigiona da sempre le donne. Vi ricordo i suoi versi che dicono Il padre è forte, rincuora i nipoti, dopo un raccolto ne viene un altro, ma io sono soltanto una mamma o figli cari, vengo con voi. Ecco, soltanto una mamma, che non è poco, cioè essere stata la mamma dei cervi non è poco, però, ma io sono soltanto una mamma, ecco. Quindi se le donne dei cervi, cioè Genoefa, le due figlie, Rina e Diomira, le quattro nuore, Margherita, Yolanda, Irne, Severina, le chiamiamo per nome, perché bisogna chiamarle per nome tutte le volte che si può, sono state tenute in considerazione solo a partire da qualche anno fa, da qualche decennio fa, i bambini invece mai. Sono stati trattati, è un po' la sorte che è toccata ai loro padri, sono stati trattati come un gruppo indifferenziato di undici orfani che nella prima foto dopo la liberazione che ho pubblicato nel mio libro compaiono tutti insieme, stretti alle loro mamme, che sono vestite di nero come impietrite, i due più piccoli sono sulle ginocchia del nonno, senza nomi, senza un primo e senza un po', e si direbbe, meno male che i più piccini almeno muovono l'aria, perché i bambini non li immobilizzi, insomma, neanche in una fotografia. Ecco, eppure questi undici orfani, considerati quasi sempre tutti insieme, hanno contribuito fin da piccolissimi a salvare quello che restava dei campi rossi, anche solo facendo i bravi, senza capricci e senza litigi. Luigi mi diceva, eravamo bambini obbedienti, cioè questi bambini sono diventati grandi di botto dopo quello che è successo, e hanno contribuito a salvare quelli che restavano dei campi rossi anche solo tenendo ferma la coda delle mucche mentre le loro mamme mungevano. Ione Bartoli mi ha fatto un bellissimo racconto, no? Di quando lei, giovane funzionaria del Partito Comunista, andava a tenere delle riunioni lì nella zona di Gattattico, e come si usava allora, la sera veniva ospitata a Casa dei Cervi, insomma, no? E mi diceva appunto che era rimasta molto impressionata dal fatto che al mattino ci si alzava prestissimo e tutti, anche i bambini più piccoli, avevano il loro compito e si muovevano come le formichine, no? Anche solo per andare ad aprire o a chiudere il recinto delle galline, insomma. Ecco, di questi undicinati della terza generazione, Maria Cervi era la più grande, come ci ha già ricordato Albertina. Non solo era la più grande anagraficamente, ma per chi l'ha conosciuta era come se fosse nata già adulta, Maria. Già adulta e provveduta, tanto era carismatica e padrona della scena ovunque si trovasse. Si fa fatica a pensarla come una bambina, si fa fatica a pensarla come una bambina ricciuta, con i capelli rossi, le lentiggini, gli occhi scuri, una bambina sveglia e curiosa. Ci sono delle foto bellissime di lei bambina, quelle che sono riuscita a trovare. Proprio questa bimba dritta, con gli occhi molto aperti, che fissa dritto l'obiettivo, sembrava davvero non avere paura di niente, insomma. E si fa fatica, ancora di più, almeno io, a pensarla come una ragazza che amoreggiava la sera con il suo Giovanni sul ponte del Viazzolo davanti a casa. Insomma, e poi lei perde un orecchino, Massimo lo ritrova e lo consegna a Margherita, la mamma di Maria, e così si scopre che Maria e Giovanni si erano fidanzati segretamente, insomma. Ecco, però per arrivare alla Maria che tutti noi o che molti di noi hanno conosciuto, si deve partire da lì. Ecco, e così io ho scelto di entrare ai campi rossi dalla porta dei bambini, cioè i figli dei fratelli e delle sorelle cervi, no? C'è un collega che si occupa a sua volta di storie, Ed è Glauco Bertani, lo cito perché molti lo conosceranno, che tempo fa mi diceva che quando si occupa dei cervi, riesci a scrivere fratelli solo con la lettera maiuscola. È proprio un dice, è una questione di rispetto, è più forte di me. Ecco, questa è una dimensione che io invece ho scelto di mantenere sullo sfondo, perché il valore del sacrificio dei cervi è irrinunciabile, è l'esemplarietà della loro vicenda anche al di fuori di tutte le retoriche che sono state poi montate su questa storia. Però quasi sempre i fratelli cervi sono stati considerati come un blocco unico di valorosi, no? Le sette medaglie d'argento conferite con la stessa motivazione, identica per tutti nel 1947, come se tutti e sette fossero sovrapponibili a ricalco e non fossero invece dotati di una loro singola personalità. Ecco, io avevo paura che partendo dagli eroi e da questa dimensione dei valorosi non sarei poi arrivata ai bambini, alla verità dei bambini, a quella verità a cui si può arrivare, e invece volevo andare a parare proprio lì, no? Ho lasciato volutamente, scusate nel frattempo è arrivata la mia gatta che è molto curiosa, adesso la allontaniamo. Ecco, vi dicevo che ho lasciato volutamente la dimensione eroica sullo sfondo e ho cercato di rimettere insieme invece le opere e i giorni, il quotidiano di questa grande famiglia di contadini emiliani e non ho trovato niente di maniloquente, quasi niente di retorico, anzi direi proprio niente di retorico. Ai Campi Rossi poche parole, molto lavoro, un grande rispetto delle tradizioni che da secoli tenevano insieme il mondo delle campagne e una spinta altrettanto forte verso il progresso. E poi la baldanza e il gusto della sfida che derivavano loro dall'essere così tanti, giovani e così capaci. Scarvulteven al mondo, mi ha detto uno dei loro cugini, coetaneo più o meno di Maria, che andava a vedere tutti questi uomini che lavoravano e diceva set uomini con la vanga e il badil, scarvulteven al mondo, che mi immagino non avrà bisogno di traduzioni, davvero, scaravoltavano il mondo e quindi c'era questo ai Campi Rossi e anche la fedeltà a quello in cui credevano e che a partire dalla radice evangelica comune aveva preso figlio per figlio delle direzioni diverse ma sempre compatibili. E quindi entrando dalla porta dei bambini mi sono resa conto del fatto che i cervi sono stati molto di più della leggenda che li ha imbalsamati e ha finito appunto per privarli un po' della loro sostanza umana e sicuramente della loro individualità. Ecco, sono entrata da lì, da quella porta lì, dalla porta sotto il portico perché volevo capire qualcosa di più della sostanza profonda di Lucia, scusate di Maria, dico Lucia perché mi sto occupando di nuovo anche di Lucia Sarsi quindi a volte mi capita di sovrapporle a queste donne che sono state anche grandi amiche. Ecco, volevo capire qualcosa di più della sostanza profonda di Maria che era stata anche lei in piena luce fin da quando aveva 18 anni all'epoca del suo primo comizio che non era neanche proprio un comizio era lì in piedi su una panchetta nel cortile dei Campierossi con alcuni foglietti in mano e parlava ai ragazzi del convinto di Rivaltella fino da quando aveva 20 anni e ha tenuto il suo primo comizio in piazza a Campeggi nel 25 aprile del 54. Ecco, volevo cercare di scoprire ed era questa la mia curiosità personale, quella da cui sono partita come ha fatto questa bambina così traumatizzata e così spezzata a diventare Maria Cervi cioè una donna così grande, la donna grande che abbiamo conosciuto una delle tantissime bambine traumatizzate e spezzate dalla storia degli uomini come ben sappiamo, insomma ieri era il giorno della memoria quindi non c'è bisogno di citare nessuno, nessuna delle migliaia e dei milioni di bambini che hanno davvero patito la brutalità delle guerre, del fascismo e del nazismo ecco lei è proprio Maria a dire in più circostanze che la sua infanzia è stata violentemente tagliata in due perché per essere figlia di contadini e all'epoca i suoi erano ancora mezzaldri quando lei è nata, Maria era nata benissimo, era nata benissimo era arrivata insieme al raccolto il 27 luglio del 1934 proprio il giorno in cui dai Cervi che all'epoca vivevano ancora ai quartieri di Valerè c'era la trebbiatrice e quindi era una giornata di lavoro indefesso però anche di esultanza insomma perché era il risultato di un anno di lavoro che si materializzava nei sacchi di grano insomma una primogenitura la sua così fortunata, così attesa sotto le stelle della piena estate insomma che sembrava proprio prefigurare un destino di abbondanza e di speranza in una famiglia giovane, quella dei Cervi che straripava all'epoca di sfide e di progetti poco dopo, pochi mesi dopo, avrebbero deciso di lasciare la mezzadria di lasciare Valerè e di fare un salto proprio, un salto di libertà diventando affittuari e insediandosi sul sul podere dei campi rossi ecco quindi Lucia, scusate Maria, nasce sotto una stella buonissima sotto una stella buonissima e poi nove anni più tardi all'alba del 25 novembre del 43 quando la sua famiglia è esplosa e il baricentro è precipitato dal suo asse, Maria ha visto tutto e ha cercato, si è sforzata, si è imposta credo di capire anche per gli altri più piccoli e non le è stato risparmiato nulla perché lei era la maggiore se il vecchio Alcide è stato protetto per settimane ci sono questi 40 giorni che sono forse anche una metafora insomma è stato protetto per settimane dalle donne di casa che gli hanno nascosto la verità Maria no, Maria no lo zio Flaminio che era il fratello di sua mamma Flaminio Agoletti che l'aveva ospitata subito dopo l'arresto dei cervi l'ha abbraccata per giorni e giorni finché lei si è lasciata dire quello che aveva già capito da sé e cioè che tutti gli uomini di casa erano stati uccisi ecco il cratere di quella esplosione terribile non è mai stato colmato malgrado una vita di pienezza e anche di molti riconoscimenti cioè Maria è stata una persona amatissima che non solo ha avuto una carriera pubblica di grande pregnanza ma è stata anche una donna molto amata molto amata eppure lei da adulta ha confessato ha ricordato in più di un'occasione che la sparatoria era entrata nella sua mente e lei diceva penso che non ne uscirà più e lo diceva mentre cercava di tenere insieme con la mano ferma che era proprio della Maria questo equilibrio operoso delle sue giornate e gli incubi notturni ricorrenti della sua casa che bruciava di cui mi hanno parlato le sue figlie insomma ecco la mia ricerca ha cercato di esplorare proprio questo questi sentieri stretti e questi terreni inospitali attraversando i quali Maria infine è approdata alla ragione del suo essere al mondo allo scopo della sua vita per molti gradi dolorosi per malattie per rinunce alla leggerezza alla fine Maria il suo nome magico l'ha pagato molto caro l'ha pagato veramente molto caro ecco Maria ce l'ha fatta perché era una ragazzina intimamente forte e i nove anni che ha vissuto con i suoi prima che il mondo le precipitasse addosso hanno tenuto, hanno fatto fondo per Maria hanno fatto fondo davvero e hanno retto per tutto il resto della sua vita e ce l'ha fatta anche grazie ai cervi che sono sopravvissuti a questa sua famiglia di sopravvissuti che hanno scelto di non abbandonare i campi rossi malgrado abbiano dovuto davvero subirne di tutti i colori anche dopo l'assassinio degli uomini di casa loro hanno deciso di restare lì di restare tutti insieme è un vecchio sapete che Genoefa è morta meno di un anno dopo dei suoi figli 11 bambini un uomo adulto che era Massimo Cervi un cugino che era venuto per dare una mano e poi non se n'è più andato ecco e questi cervi che sono rimasti sono da considerare eroici almeno tanto quanto gli uomini che sono stati fucilati perché sono rimasti lì a stordirsi di lavoro con dignità, con integrità perché poi si sono impegnati nella conservazione della memoria e due volte eroici per avere patito l'assenza dei loro martiri la prima come proprio perdita immedicabile degli affetti e poi via via che il mito enormemente popolare dei fratelli Cervi manteneva la ferita sempre aperta ecco questo mito proprio li chiamava al paragone e obbligava i superstiti e i discendenti a esserne all'altezza insomma io cito un'altra cosa che mi ha detto Rina Rina la figlia di Ennio che era il fratello più piccolo di Maria il terzo genito di Antenore ecco Rina mi raccontava che da piccola si sentiva proprio in preda all'ansia perché aveva paura di non ricordare i sette nomi degli eroi di casa in fila in ordine cronologico ecco eppure i Cervi sopravvissuti si sono tenuti insieme l'un l'altro come le pietre di un edificio e hanno avuto anche la lungimiranza di investire su Maria facendo studiare prima di tutto lei anche se era una femmina poi anche le altre ragazze faranno un po' di scuola però la scelta più coraggiosa è stata quella di fare studiare lei anche se era una femmina ecco quindi Maria ce l'ha fatta grazie alla sua famiglia quella di prima e quella di dopo quella di prima e poi quella che era rimasta e poi ce l'ha fatta anche grazie all'impegno politico si capisce benissimo come mai Maria abbia speso la vita a fare politica è evidente soprattutto per lei e per gli altri ragazzi che il partito comunista era diventato una specie di padre sostitutivo che ha ripristinato intorno a loro la quadratura del mondo la cornice, i progetti, l'orizzonte ideale che era la parte che era stata degli uomini perduti e soprattutto su Maria la ricaduta è evidente proprio perché su di lei avevano investito in casa lei negli anni della scuola credo che abbia molto patito la sua condizione di orfana di guerra e poi anche quella di adolescente contadina che proveniva da una casa colonica sia in ora berciata dopo tutti gli incendi che aveva subito e che era approdata in città perché insomma avevano deciso che avrebbe studiato da ragioniera perché nell'azienda dei cervi che pian piano si rimetteva in piedi c'era bisogno di qualcuno che sapesse fare i conti come si doveva e infatti nei libretti del latte che io ho consultato e che sono una meraviglia ci verrebbe un magnifico lavoro di storia economica nell'archivio dell'istituto Cervi per alcuni anni finché Maria andava a scuola le annotazioni sono di mano sua sono di penna sua quindi avevano fatto su di lei un investimento anche per questo motivo insomma ecco però questa ragazzina che veniva dai Campi Rossi da questa fattoria insomma che era davvero che aveva un tetto forniva loro un tetto ma non era certamente una casa in ordine diciamo era approdata a Parma a frequentare l'istituto per ragionieri che aveva sede in uno dei palazzi più prestigiosi e imponenti del centro storico della città voi sapete che Parma è una città di straordinaria eleganza insomma quando Anna Bigi la figlia di Maria e Dio siamo andate a vedere questo luogo perché io ho voluto vedere quasi tutti i luoghi che aveva visto Maria ecco siamo rimaste anche noi impressionate dall'imponenza di questo palazzo con tre cortili lo scalone d'onore gli affreschi la lapide degli studenti morti durante la prima guerra mondiale quindi ci siamo immaginati ci siamo messi nei panni di questa ragazzina che veniva dai campi rossi insomma e poi appunto Maria ai tempi della scuola portava un cognome che cominciava a circolare circolava già molto e suscitava molta curiosità e anche molti atteggiamenti contrastanti insomma ecco quindi quegli anni sono stati per Maria di grande disagio e di un disagio profondo invece fra le ragazze della FGC e poi nel partito il suo vissuto trova finalmente una collocazione riconosciuta anzi no quello che era successo alla sua famiglia assume un valore esemplare un valore assoluto è il suo segno di distinzione no lei è una cervi ecco secondo me è proprio in quegli anni che il suo destino diventa una specie di corsia obbligata che però Maria accoglie alla fine con molta consapevolezza no proprio come una scelta di vita ecco perché appunto il partito è quel luogo alto e ideale che dà un senso al caos emotivo della sua adolescenza le consente di sperimentare la fierezza di quando si porta una bandiera le fornisce uno scopo la colloca in una prospettiva di trasformazione del mondo e per me è stato davvero estremamente utile leggere le lettere che Maria e Giovanni si sono scambiati quando non erano ancora ufficialmente fidanzati ma quasi dovevano solo dichiararsi a vicenda secondo me e c'è questa spalancatura sul mondo che è veramente veramente sorprendente insomma questa spalancatura sul mondo e questa abitudine a guardare al mondo secondo me veniva loro proprio dalla comune militanza dalla militanza che avevano in comune ecco quindi Maria ce l'ha fatta grazie alla sua famiglia grazie a questo impegno politico al quale si manterrà lealmente fedele anche se molto combattuta per tutta la vita e alla fine e alla fine appunto grazie all'amore di Giovanni Bigi che è diventato suo marito nel 1962 ma che c'era già da molto prima e loro è stato davvero un amore invidiabile un amore sensato paritario scritto io perché a Giovanni non c'era bisogno di raccontare niente della sua ferita interiore perché i Bigi i Bisette i Bisette vivevano praticamente dall'altra parte dei Campi Rossi quasi a portata di voce fin da quando erano piccoli e Giovanni aveva preso parte a tutte le vicende della famiglia tutti voi ricorderete il famoso episodio della pasta asciutta dei fratelli Cervi dopo il 25 luglio dopo la caduta del regime ecco Giovanni Bigi guidava il carro che trasportava in piazza a Campeggine i bidoni con dentro la pasta insomma quindi Giovanni c'era c'era da sempre fin da quando erano piccoli no amico compagno fratello sostegno insomma e quindi io ho sempre pensato che Maria non avrebbe potuto sposare nessun altro che lui insomma e appunto il loro è stato un matrimonio rotondo invidiabile che non si curava neanche molto delle convenzioni insomma Maria eravamo all'inizio degli anni sessanta in Campania insomma quindi insomma il mondo era ancora un mondo che andava alla vecchia maniera insomma anche negli ambienti più aperti e progressisti Maria era la più impegnata dei due e Giovanni si prendeva cura delle bambine senza batter ciglio no come se si trattasse della cosa più naturale del mondo insomma era nell'ordine delle cose perché il destino di Maria per amore era diventato anche il suo ecco e così insomma Maria ce l'ha fatta a tenere a bada tenere a bada il suo male oscuro e a trasformarlo in una fortissima sostanza di vita in una energia profusa senza risparmio a fare sì che la memoria dei cervi non si perdesse insomma a testimoniare non solo la resistenza l'antifascismo e la costituzione ma anche i diritti degli ultimi no Maria si è appassionata a un'infinità di cause e la sua è stata proprio una passione inesausta fino all'ultimo fino al giorno in cui è morta insomma e se il museo CERVI esiste ed è oggi come ci diceva Albertina tutt'altro che un sacrario no e accoglie migliaia di visitatori e altrettanti ne accoglierà appena potremo tornarci noi lo dobbiamo alla scelta all'ungimirante di Alcide ma soprattutto a Maria insomma che pensate solo nei quattro anni di celebrazione del sessantesimo della resistenza aveva incontrato ventimila persone la chiamavano il ministro degli esteri di casa CERVI questa bambina dai capelli rossi che teneva il coperchio sopra a un abisso di dolore no che era però ancora sempre quella bambina del raccolto no Maria viveva sopra un abisso di dolore ma era una bambina del raccolto che ha continuato a ripetere come si se si trattasse proprio del suo testamento spirituale nessuna conquista è per sempre no anche oggi anche per noi direi per noi più che mai grazie 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 a tutti.